La Regione ha stanziato 10.000 euro per il premio di Venanzo. Siete soddisfatti? No, non siamo soddisfatti perché l'anno scorso abbiamo avuto 15.000 euro, un taglio del 50%. Per noi già 15.000 euro sono pochissimi perché per questo premio che è internazionale, veramente conosciuto in tutto il mondo, non ho bisogno io di dirlo. Sono 21 anni che agiamo sul territorio e io voglio capire le difficoltà, voglio capire il momento, però il momento è sempre solo per noi. Noi quest'anno abbiamo avuto dei tagli, intanto il Comune ci ha dato come finanziamento ci ha dato solo una giornata del cinema, le altre due giornate ce le siamo pagate da solo. Quindi l'amministrazione comunale è totalmente assente come se noi non esistessimo. e non capiamo il motivo perché dopo per chi vogliono l'oro trovano di tutto e di più. E questo non è giusto per un'associazione che quest'anno festeggia i 30 anni di attività, non è un'associazione che è nata ieri. Però noi chiediamo gli unici contributi che chiediamo. Durante l'anno facciamo più di 120-140 iniziative nella nostra sede. L'unica iniziativa che cerchiamo di portare avanti con molte difficoltà perché con 10.000 euro non è che si va... Noi abbiamo avuto quest'anno una spesa di 35.000 euro di contributi pubblici, ne abbiamo ricevuto 14.000. quindi ci troviamo fuori budget più di 20.000 euro. E non è che si possa di questo passo andare tanto lontana perché il premio Gianni di Venanzi, ripeto, non è un premio sorto così. Ha una sua motivazione, un premio unico dedicato agli autori della fotografia cinematografica. abbiamo come presidente Vittorio Storaro, abbiamo avuto il goda del cinema mondiale. Però questa attenzione non è stata riservata assolutamente.